Di questo Master penso che l'aspetto che mi è piaciuto di più è quello umano, nel trovare persone che avessero una visione simile alla mia, sia tra i compagni di corso con cui si sono creati dei rapporti di amicizia, sia anche tra i docenti. Diciamo che è stato come allargare gli orizzonti e allargare le relazioni. E quindi questa è la cosa che mi porterò più a cuore da questa esperienza.